Il Lugano, intanto ecco la terna arbitrale, ho acciaccato così come non c'è un altro ex, poi i tre suggeritori, Lovridge, Olander e si comincia con il Lugano che gioca il primo pallone all'interno, avversaria, il lancio di Barella, il colpo di testa con la posizione di fuorigioco ravvisata però dai danni di Alexis Sanchez, calcio di punizione per il Lugano Fischiato l'arbitro, ma proprio Ghent, il tocco basso di Hakimi, poi la battuta di Barella Può andare il Lugano, da quella parte c'è Ghent, sta puntando, sinistro di Alexander Ghent Si avvicina pericolosamente, Bottani, palla sul mancino, Bottani, palo, con Andanovic che non è riuscito ad arrivare Seconda grande occasione, Guidotti, ancora il cross basso Lautaro Martinez che adesso va a ricevere in posizione regolare, si gira a destro Invece non parte Ghent Palla di ritorno difettosa, ancora l'Inter con Hakimi Deviazione, autogol e 2-0 dell'Inter La deviazione di Keskes Ruba palla, può andare, si propone Lautaro Martinez Questo si è un gran gol, in perfetto contropiede per l'Inter Palla rubata, Sanchez Lautaro Martinez, questo è l'asse vincente per il gol numero 3 dell'Inter È arrivato Guidotti, sinistra Che scappa veloce sulla destra, senza il controllo Sanchez, palla dentro per Lautaro Martinez Con il sinistro appoggia il pallone in porta per il 4-0 dell'Inter Doppietta per il toro Assistenza ancora di Alexis Sanchez All'intervallo l'Inter, avanti 4-0 Il primo tempo, mentre Diop Intanto Per Lukaku, messo giù dal portiere E direi che l'arbitro È il fisco dell'arbitro Sinistro del giocatore belga È gol per lui, gol del 5-0 per l'Inter Intanto ancora l'Inter con Ashley Young Sinistro e deviazione contro il Pisa Debuterà in campionato il fin Intanto riceve Lukaku, rientra sul sinistro Prova di impallinare Osigui che però gli resiste Tenuto basso per Salcedo destro, deviazione C'è Lukaku Era in fuorigioco Era riuscito a scaricare Non lo molla un attimo con lo sguardo e con la postura del corpo Dal Pescara nel particolare Intanto Perisic Gran sinistro Palla sul fondo Palla ancora per Lukaku Cerca di scot... Eccolo, ancora Lukaku Gran sinistro Non le sfondava Radu Due molte Bravino avanzato Una trattativa con il Cagliari Fuorigioco intanto di Eddie Salcedo Che è lo scatto di Eriksen Che mette giù un po' pallone Eriksen dall'altra parte Palla davanti per Lukaku Che era in posizione regolare Capisce tutto però Con un attimo Non c'è Grazie a tutti